Picasso è stato onorato dalla famosa Tete Gallery londinese. Il maestro vi espose nel 1895 e da allora ha continuato a dipingere con talento difficilmente uguagliabile. Picasso può rendere perplessi. Considerato poco comprensibile da alcuni, è senza dubbio se non il più grande, uno dei più grandi artisti del nostro secolo. Fondatore del cubismo e di molte altre tendenze ancora, quando trova imitatori Picasso distanzia ogni epigona con facilità irrisoria. A Londra sono giunte sue opere per milioni di sterline e il grande Pablo, soddisfatto, ha dichiarato semplicemente di voler spazzare via tutti, critici e competitori. Cosa che per la verità gli è riuscita da quando 15enne il padre, pittore egli stesso, gli consegnò i suoi colori e i suoi pennelli.